E' nella notte della Taranta, ieri a Melpignano, l'appello contro la violenza della maestra concertatrice Fiorella Mannoia di Tananai. Sentiamo Ense Mirafesta. Una notte della Taranta dedicata alle donne contro la violenza, come ha voluto la sua maestra concertatrice Fiorella Mannoia, perché, ha spiegato, l'amore è solo consensiente, è condivisione. E così anche Tananai, salito sul palco con un segno rosso sotto l'occhio, si toglie la camicia e mostra il suo messaggio. Adesso basta, nessun'altra. La musica, all'insegna del femminile, continua con Arisa, che presta la sua voce a brani storici come Ferma Zitella. Un concerto di suoni antichi e riletture moderne, che mescola dialetto salentino, grico e arbreche. Noi siamo frutto di una grande contaminazione. Noi, soprattutto il sud Italia, arabi, spagnoli, francesi, normanni, chiunque sia transitato nella nostra penisola ha lasciato qualcosa. Oh, lullia, 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 lullia. Poi, la platea dei 250.000 spettatori si infiamma per il lullia, lullia di Brunori Sassi. Sono così gentili con me i pugliesi e le pugliesi, che quasi mi fanno tornare un ottimismo e una fiducia nell'umanità che io da sempre non ho mai avuto. È un sport di 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 un